Secondo livello di gioco, siamo su bordi 10 jack 3 assi, river a un jack, il piatto si aggira già sulle 12-13 mila unità, siamo in e-zaffa, river. Si raddoppia il jack, il giocatore al posto 9 decide di fare la terza betta, decide di puntare 11 mila e due e c'è il call del suo avversario. Il giocatore al posto 9 mostra full house degli assi e posto 2 purtroppo per lui con l'asso tarma ha fatto scala con cappadama ma deve purtroppo fare call e perdere, quindi ottimo piatto, primo livello di gioco blind 100-100.